Musica Ben ritrovati. Il primo servizio di oggi di salute e sanità è dedicato ad un tema di ordine generale. Approfondiremo tra poco argomenti specifici, attività di reparti ed iniziative particolari. Ma l'apertura la dedichiamo proprio al tema dell'organizzazione sanitaria e governance. Sentiamo. I ragionamenti e le opinioni intorno alla sanità sono sempre di più influenzati da luoghi comuni, o nella maggior parte dei casi, da singole esperienze negative che sommandosi hanno come effetto quello di generare prima ed amplificare poi inutili generalizzazioni. Numeri e statistiche invece rivelano contesti ben più incoraggianti. Stando ad esempio all'ultima classifica stilata da Bloomberg e dedicata ai sistemi sanitari più efficienti in relazione al rapporto tra costi aspettative di vita, la sanità italiana è al quarto posto nel mondo per efficienza. Siamo secondi in Europa dopo la Spagna e primi al mondo per popolazione sana. Risultati resi possibili dall'istituzione nell'ormai lontano 1978 del Servizio Sanitario Nazionale. Nella realtà, tuttavia, il Servizio Sanitario Nazionale appare composto da 21 differenti sistemi sanitari regionali che si caratterizzano spesso per performance di livello diverso, al punto da rendere difficile assicurare la piena equità nella distribuzione delle cure a livello nazionale. Oggi, dunque, la sfida è quella di uniformare, rendere più omogenee possibili le performance di eccellenza, obiettivo che è possibile raggiungere solo attraverso una precisa impostazione di metodi, valutazioni e governance. Il processo di eccellenza è una certificazione di una qualche cosa che già avviene e che si va migliorando. La realizzazione di un sistema dove l'appropriatezza e l'eccellenza torni ad essere il riferimento alto su cui impostare una nuova azione di programma non può prescindere da quello che è un modello di valutazione integrata, un modello di valutazione soprattutto dei bisogni della persona con fragilità. Secondo un orientamento che sta progressivamente abbandonando la settorialità, indirizzandosi verso un approccio più complessivo di pratiche quotidiane e di valutazioni multidimensionali. Sarà necessario erogare prestazioni sanitarie integrate, quindi creare un percorso clinico basato realmente sulla multidisciplinarietà e sulla multiprofessionalità. E tutto questo chiaramente presuppone una organizzazione, una organizzazione complessa per raggiungere questo obiettivo basato soprattutto sulla qualità dei processi clinici, il rischi management, la necessità innanzitutto di una piena e reciproca consapevolezza dei singoli processi produttivi e dei percorsi di stratificazione dei processi operativi. E soprattutto il primo valore da condividere in questo modello di governance assistenziale è la visione di una centralità del paziente, che non è la solita retorica il paziente, ma deve essere concretamente messo alla base e al centro di ogni percorso e di ogni esercizio professionale integrato soprattutto sui bisogni della singola persona, sulla necessità e non sulla necessità dei singoli attori che sono parte integrante del processo. Ma passiamo ora ad occuparci di temi specifici ed in particolare del centro di riferimento regionale di terapia del dolore e delle tecniche interventistiche utilizzate. Vediamo. Il centro di terapia del dolore dell'Annunziata io definirei un centro all'avanguardia, soprattutto per le tecniche microinvasive adottate negli ultimi anni dal dottore Amato. Questo ci permette di gestire il dolore a 360 gradi, quindi dal dolore benigno, dolore acuto, dolore subacuto, dolore cronico, benigno e maligno, con delle tecniche chirurgiche che ovviamente non sono solo quelle sulle procedure discali, ma l'impianto di pompe intraticali, gli stimolatori midollari. Recentemente ho approfondito proprio andando personalmente a Dusseldorf in Germania e con queste tecniche, come dicevo, riusciamo a trattare il dolore a 360 gradi con un'obiettività e un risultato terapeutico molto, ma molto valido. Le tecniche sulle procedure discali ovviamente sono di vario tipo, sono di tipo conservativo come la d'alisco-lisi con l'ozono, la nucleoplastica a coblazione, facciamo anche una nucleoplastica con laser olmio. È una tecnica all'avanguardia, molto efficace, con dei risultati terapeutici molto validi e immediati. Le tecniche un po' più invasive sono la microdiscectomia e la microdiscectomia endoscopica. Le due tecniche si diversificano per un semplice passaggio, mentre la prima si va a marcare la parte arniaria con un marcatore che è il blu dimetirene e lo si asporta praticamente con una micropinza. Nella seconda tecnica si usa un endoscopio attraverso sempre un microintroduttore di 4 mm solamente, che ci permette non solo di visualizzare l'ernia, o eventualmente nella fase espulsiva trattare anche l'ernia che ha raggiunto il canale radicolare e che si sta trascinando per poi fuoriuscire completamente. Con questa tecnica appunto riusciamo a trattarla in microinvasività. Non lo definirei nemmeno un intervento chirurgico perché la tecnica ci permette proprio di eliminare questa ernia senza incidere la cute. Un taglietto di 3 mm soltanto per far passare il trocar. Interventi dunque che hanno come riferimento il trattamento del dolore ed un approccio che sia il meno invasivo possibile. E continuiamo dunque ad approfondire queste tecniche. Il prossimo servizio è dedicato alla termoablazione delle metastasi osse. Nell'unità operativa complessa di terapia del dolore dell'azienda ospedaliera di Cosenza ci tengono a sottolinearlo costantemente quasi fosse una mantra utile a rendere evidente il passo in avanti straordinario. Negli interventi che vengono eseguiti l'anestesia è locale, il paziente è sveglio, sedato ma cosciente, al punto da poter anche dialogare. È un approccio interventistico che muta completamente la prospettiva tanto per il paziente quanto soprattutto per i medici, con il risultato di azzerare uno dei rischi connessi a qualsiasi intervento operatorio. Questa è tutta la filosofia della mini nano invasività, degli interventi di micro invasività che per loro natura evitano l'anestesia generale, evitano la narcosica, è un rischio aggiuntivo all'intervento. Quindi sono procedure che vengono fatte, vengono espletate in sedazione, il paziente è sveglio. Paziente cosciente anche nel caso della termoablazione delle metastasi osse, intervento al quale sono riferite le immagini. Si tratta di una procedura con una ridotta invasività che consente dunque una riduzione rilevante del costo biologico dell'intervento e di gestione del paziente. La termoablazione delle metastasi osse è una tecnica relativamente recente per la verità. noi la utilizziamo da un annetto con dei risultati davvero interessanti sul dolore. Viene utilizzata una tecnica che va condivisa con la radioterapia o laddove i fasci esterni non sono più indicati e in concomitanza a qualsiasi tipo di chemioterapia. Viene utilizzata anche nell'osteomo osteoide quindi anche in altre lesioni benigne delle strutture osse. Ha un miglioramento della qualità di vita importante valutato con tutti i test diagnostici e psicologici oltre che anche sull'evoluzione della malattia stessa. Studi recenti hanno anche dimostrato che si può trattare con estrema sicurezza e una tecnica relativamente compliante, maneggevole, ben gradita dal paziente queste lesioni osse sia di secondarismi sia di lesioni primitive delle osse e soprattutto anche lesioni benigne. Noi è una tecnica che eseguiamo tac guidata con estrema precisione in paziente sempre sedato quindi sveglio e l'intervento, la procedura ha la durata di un quarto d'ora massimo 20 minuti. Un caso complicato quello documentato dalle immagini. In alcune circostanze infatti l'area di intervento presenta una molteplicità di aspetti di cui tenere conto. L'intervento di termoablazione delle metastasi osse si può associare anche alla cemento plastica con il contestuale rinforzo dell'osso. Perché questa mattina era una vertebra completamente scompaginata dalla malattia neoplastica in cui c'era un peluncolo controlaterale completamente distrutto e sovvertito, un'invasione anche dei tessuti molli che erano particolarmente dolorosi quindi è necessitato anche di una sedazione leggermente più profonda e poi è stato un caso particolare perché c'era una piccola lesione del muro posteriore quindi abbiamo dovuto fare particolare accortezza nella somministrazione poi del cemento. Il risultato come l'abbiamo potuto già osservare è immediato, il paziente scende da solo dal tavolo operatorio e ha un riscontro antalgico, una ragione del dolore quasi del 100% quindi una tecnica molto molto gradita anche dal paziente. Interventi complessi che fino a qualche tempo fa comportavano come abbiamo sentito nel servizio l'impiego dell'anestesia totale ed un costo biologico consistente. La mini-invasività cambia evidentemente approccio e prospettive. Cambiamo argomento e scopriamo insieme il valore dello spazio epidurale e le caratteristiche della cosiddetta periduroscopia. Fino a qualche decennio fa i manuali di anatomia lunghi migliaia di pagine dedicavano allo spazio peridurale poche righe, trascurato e per molto tempo ritenuto dunque quasi virtuale. Lo spazio epidurale è in realtà anatomicamente importante e decisivo. Inizia a livello del forame occipitale e termina a livello del coccige. Contiene radici nervose, arterie, vene e vasi linfatici. Questo spazio è riempito da tessuto adiposo, da vasi sanguigni e linfatici. La periduroscopia è una tecnica attraverso la quale noi entriamo ed esploriamo lo spazio peridurale, che è uno spazio anatomico che sta tra le meninge, tra la dura madre e l'arachinoide e avvolge strutture anatomiche anche importanti. Avvolge le radici nervose e spinali, avvolge strutture arteriose che innervano anche il midollo, avvolge strutture venose e avvolge a volte anche di processi infiammatori molto molto importanti, soprattutto dopo procedure chirurgiche che residuano quelle sciatiche, che residuano dopo interventi chirurgici alla colonna, dopo ernie del disco e che neanche la risonanza magnetica, anche la più sofisticata, a volte può evidenziare. Quindi come adesso andremo a vedere, andremo ad esplorare questo spazio che è sede non solo di compartimentalizzazioni dovute a processi infiammatori, ma anche di fibrosi che avvolgono le radici e attraverso questo strumento, un endoscopico a fibre ottiche, andiamo a rimuovere queste callosità, queste fibrosi che sono la causa delle cosiddette Fellbeck sindrome e di altre patologie che adesso andremo a vedere. Con il periduroscopio, una volta evidenziata la presenza di aderenze, è possibile risolvere o tagliare tali aderenze liberando la radice nervosa dalla reazione infiammatoria che si era creata intorno. La procedura viene eseguita in anestesia locale, associata a sedazione e richiede un semplice ricovero in day surgery o day hospital. che oltre ad essere anche un veicolo per somministrazione di farmaci che poi vanno nello spazio etroperitoneale, vengono assorbiti dalla granate e quant'altro, mi ha fatto capire che lo spazio peritone non è così semplice come veniva descritto fuori testi di anatomia, è uno spazio molto articolato e compartimentalizzato da processi fibrosi che adesso capiamo perché alcune anestesie devono essere vanificate perché il farmaco viene ad essere direzionato da queste compartimentalizzazioni e allora lo spazio peridurale sta diventando di grande interesse oltre che clinico perché la sede proprio dell'origine è il generetolo di tanti dolori sciatalgici che si ne causa apparentemente e anche uno spazio per la somministrazione di farmaci, uno spazio che si sta rivelando attraverso pubblicazioni recentissime, anche noi abbiamo dato il nostro contributo dall'operatore internazionale, con la nostra casistica si sta rivelando una struttura anatomica estremamente interessante per capire ciò che prima non si capiva, cioè perché il 30-50% di alcuni mal di schiena derivano proprio da questa struttura anatomica, dall'infiammazione di questa struttura anatomica, le cosiddette pseudosciatiche che non hanno una distribuzione metamedica del dolore. Negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente la consapevolezza sul valore della donazione di sangue per il sistema sanitario. Oggi si può dire che l'autosufficienza nazionale e regionale è garantita, ma è un argomento al quale occorre prestare costante attenzione e da Cosenza l'azienda ospedaliera ha organizzato un'intera giornata proprio al valore della donazione del sangue. Vediamo. Il significato della giornata di oggi è quello intanto di avvicinare il maggior numero possibile di persone di tutte le età al messaggio della donazione. Apparentemente è singolare l'organizzazione di oggi, dove sono intervenute varie entità della vita di tutti i giorni, dalle persone comuni, dagli studenti ai bersaglieri, passando per i calciatori del Cosenza e altri sportivi. Questo serve a due cose, ripeto. La prima è quella di trasmettere il messaggio, il messaggio che donare è vita, perché noi come dico spesso dobbiamo convincere le persone sane ad avvicinarsi alla donazione, ad una donazione particolare, che è un po' diversa rispetto alla donazione degli organi, importantissima, ma sempre legata ad un momento tragico. In questo caso la donazione è sempre legata ad una festa. Oggi abbiamo l'iperbole della festa, questo ovviamente non può avvenire tutti i giorni, però tutti i giorni si esce da questa sala in maniera convinta che si è fatto del bene, ma non del bene banale. Si sono salvate delle vite, considerando che con l'adozione del sangue si salvano tre vite, si donano plasma, piastrine e globuli rossi, con un quarto della propria vita. D'altro canto, iscrivendosi al registro dei donatori di midollo osseo, invece si viene inserito in un registro mondiale, dove più alto il numero di donatori, più alte sono le possibilità che un ricevente abbia un donatore compatibile. E in quel caso ancora di più sia l'evidenza di una vita salvata. Ed è stata inaugurata nell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale civile annunziata di Cosenza una piccola biblioteca destinata ai pazienti. Si tratta dello scaffale del cuore, progetto frutto di una sinergia tra l'azienda ospedaliera, il club Soroptimist e Lavo. Abbiamo sentito Francesco De Rosa, il direttore di cardiologia dell'ospedale annunziata di Cosenza, e Rosita Paradiso, del club Soroptimist International. Lo scaffale del cuore è un progetto realizzato nell'ambito del programma nazionale SIVA, in biblioteca promosso dal club Soroptimist International d'Italia di Cosenza e dal Lavo regionale. All'ospedale di Cosenza dunque non solo gli spazi della medicina, ma anche quelli dove i pazienti possono trovare attimi di evasione. Ed è questo lo spirito che ha portato all'inaugurazione della sala di lettura all'interno del reparto di cardiologia guidato dal dottor Francesco De Rosa. Il cuore è un organo specialistico che però riesce ad essere, a ricevere influenze positive da tante cose. La cura del cuore significa prendersi cura della persona nella sua totalità, altrimenti non riesce nemmeno a guarire perfettamente le persone. Il processo di guarigione può comprendere i vari passaggi fra cui il dialogo e anche la lettura, perché no? I libri sono stati donati dalle varie socie e anche da diverse case editrici locali come la Pellegrino, la Falco Editore, la Rubettino, sono stati tutti molto disponibili nel donare i loro libri e quindi abbiamo pensato che anche la lettura fa bene al cuore. Pertanto ci farà piacere che i leggenti e il personale del reparto possa sfogliare il libro. E prima di salutarci c'è spazio per un'ultima notizia. Sono stati eseguiti per la prima volta all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza quattro interventi di termoablazione laser dei noduli tiroidei. Si tratta di una terapia mini-invasiva non chirurgica, si legge in una nota diffusa dall'azienda ospedaliera che inaugura ufficialmente al Lab di Cosenza l'era dell'ablazione percutanea laser eco-guidata. Gli interventi sono stati eseguiti su quattro donne affette da noduli tiroidei benigni ma voluminosi che causavano sintomi di compressione e soffocamento, oltre a determinare il disagio derivante dal danno estetico. Innegabili vantaggi della tecnica termoablativa, ha dichiarato il dottor Giovanni Vallone, responsabile della UOSD Ablazione percutanea. Il laser consente di ridurre il volume del nodulo fino alla completa scomparsa, lasciando la tiroide in sede. L'assenza di taglio chirurgico permette inoltre di erogare l'intervento in dei hospital e sin dal secondo giorno il paziente riprende la normale attività. E con questo è tutto. Grazie come sempre per la cortese attenzione, l'appuntamento e alla prossima settimana. Arrivederci.